Ma voglio dirvi una cosa. I giudici devono parlare con le sentenze e noi li aspetteremo e li incoraggeremo e saremo dalla loro parte. Ma le sentenze devono arrivare presto perché noi vogliamo sapere chi è il responsabile, vogliamo sapere chi è il colpevole, vogliamo sapere chi è che ruba, perché la differenza tra chi dice rubano tutti e chi dice datemi nomi, la differenza è esattamente tra quelli che non vogliono nessun colpevole sparando nel mucchio e pensando di prendere consenso e chi invece pensa che la giustizia sia una cosa seria. Credo che ciascuno ha i suoi sport preferiti. Il suo è quello di leggere le intercettazioni, il mio è quello di rispettare la carta costituzionale.